Lasciamoci sospingere dalla forza del Vangelo e dello Spirito Santo, usciamo dai nostri recinti e migriamo dai territori in cui a volte siamo tentati di chiuderci. È la riflessione offerta da Papa Francesco ai partecipanti alla plenaria della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Ricevendoli in Sala Clementina, il Pontefice ha ricordato il suo recente viaggio in Africa, evidenziando che laddove ci sono necessità c'è quasi sempre una presenza della Chiesa pronta a curare le ferite dei più bisognosi, nei quali riconosce il corpo piegato e crocifisso del Signore Gesù. Ma la missione non risponde ad iniziative umane, protagonista è lo Spirito Santo suo e il progetto aggiunto e la Chiesa è serva della missione. Vi ringrazio per il vostro lavoro di animazione e cooperazione missionaria, con cui ricordate a tutte le Chiese che, se costrete nei propri orizzonti, corrono il pericolo di atrofissarsi e spegnersi. La Chiesa vive e cresce in uscita, prendendo l'iniziativa e facendosi prossimo. Perciò voi incoraggiate le comunità ad essere generose anche nei momenti di crisi vocazionale. Perciò voi incoraggiate le comunità ad essere generose anche nei momenti di crisi,